Ciao a tutti ragazzi sono MattBoy120 e bentornati in un nuovo episodio di League of Legends Allora volevo fare una questione particolare oggi, praticamente volevo provare una nuova cosa, allora io cliccherò questo pulsante random e mi verrà fuori appunto un fighter random tra quelli che viene, tra quelli che sono disponibili, ho due possibilità di ricliccarlo quindi la prima e poi posso ricliccarlo ancora una volta, gli unici, salterò i campioni che abbiamo già fatto, quindi i capelli che abbiamo già fatto sono... Veigar e Renekton non c'è e poi non mi ricordo, eh beh e andiamo, Tryndamere, vediamo se ci viene come secondo, Nunu e giocheremo con Nunu allora, bene, preparatevi, sta per iniziare, tutto io scrivo recording e... beh sì, oggi giocheremo con Nunu che è il tizio sullo Yeti, non vi spiego... bene, spero che questa modalità che mi è appena volutamente in realtà vi piaccia e continueremo così quando faremo LOL perché mi sembra qualcosa di più sensato che prendere un campione a caso, cioè prendere un campione con cui ho voglia di giocare e giocare... bene, allora... ah tra l'altro una cosa, ogni volta che devo cambiare schermata, eccetto da questa al gioco, mi salta un attimo la registrazione, quindi se vedrete dei... dei minuscoli stacchi, adesso sapete perché, allora, guardiamo le squadre squadra nostra, quella in alto, abbiamo un Garen, bene, come vi ricordate con Veigar, se sa usarlo bene, se no, niente probabilmente giocherà Tank, un Nocturne che è uno free to play assassino, un assassino, quindi tanti danni, poca vita Master Yi, tanti danni, vita discreta, è uno di quelli base, Brand mago, mago e noi siamo un jungler, si, quindi possiamo andare jungler e poi... fighter, jungler fighter, quindi ammazziamo gente, siamo un tizio normale che poi può andare nella giungla a ammazzare i mob qui abbiamo un altro master Yi, qui abbiamo Timo che è il più fastidioso del mondo, non so se l'avevamo già visto, mago Draven attacco a distanza, forte se lo sai usare se non fa schifo, Nasus fighter, che con una predisposizione anche per essere un tank quindi tanta vita e poi c'era anche un... vatte la pesca adesso non ci prendiamo questo qui oggi ho intenzione di giocare bene e Hunter's Macheter e bene, come vedete siamo piuttosto ridicoli ma... lasciamo perdere questo è piuttosto stupido chiediamo aiuto a Master Yi per ammazzare il golem intanto noi abbiamo un'abilità, l'abilità passiva è praticamente dopo 5 attacchi normali la nostra prossima magia non ci costa mana, il che è una cosa fantastica abbiamo la prima skill sbloccata, praticamente mangiamo un minion, facciamo 40 danni e ci curiamo di un tot poi abbiamo dei bonus a seconda di che cosa attacchiamo nella giungla è per questo che è un bull jungler poi abbiamo questo che ci potenzia la nostra... il nostro attacco e quello di un nostro amico questo che fa un semplice danno e rallenta i nemici e questa è la final che poi vi spiegherò quando ce l'avremo pronta adesso se vengono fuori i cosi... ecco qua mangiamo un po' e come vedete lo stiamo piuttosto ammazzando e l'abbiamo ammazzato molto bene intanto abbiamo il bonus per il... si chiama... Red Rock Candy vabbè un attimo siamo contro Nasus se Master Yi ovviamente però questa abilità ha un punto negativo ossia che lo possiamo fare solo con il minion quindi possiamo fare questo e ci curiamo lo possiamo stare molto in vita facilmente può fare danni abbastanza anche cioè non è che non fa danni, anzi i nemici hanno fatto il first blood dovrebbe essere una cosa brutta intanto vediamo che Nasus si sta divertendo a fare cerchi pentastici scriviamo se Master Yi va bot e blocchiamo quello da fare il danno ecco qua e semplicemente facciamo questo e mi hanno fregati ii Master Yi non vuole andare bot intanto becco di nuovo Nasus con la pallina non le palle di me va basso un po' il volume qui alle casse perchè un tantino alto è incociato è incociato in cui v beast è incociato realmente anche tu è fabbocato ragazzi stacco un attimo perchè si sta sta partendo il server si sta fottendo il server un attimo che stacco F9 signori sono uscito sto rientrando adesso vediamo se il server è tornato intero perchè se no abbiamo un problema io che volevo giocare bene oggi che come avete potuto vedere prima stavo partendo via adesso sembra che funzioni bene si ok sta funzionando bene speriamo non succedi di nuovo vedato sblocchiamola andiamo minion che non ci fa mai male e abbiamo la prossima abilità pronta all'uso facciamo facciamo questa abilità aia madonna aia sta cercando di ucciderli grazie master ghi mamma che raggio ha questo non è neanche raggio proprio perchè non cosa vuoi fare ma allora sono scemo anche io però eh ok maniam 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 no chi se frega chi se frega chi se frega si questa abilità fa molti danni ai minion davvero molti ci potenziamo ci hanno distrutto una torre dottor facciamo uno spuntino a take away ah tanto da che è già a livello 6 mazza oh sta affidato un casino mamma mia questo è bravo beh signori signori continuiamo la nostra della nuova battaglia andiamo addio 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 devo fare recall se no muoio vediamo che il gioco non abbia altri problemi dopo vediamo cosa possiamo comprare velocità non aspetto per questi intanto torniamo in battaglia con il teleport lo rallentiamo lo rallentiamo non vuole fare là attenzione questo mangiamo un minion colpiamo si fa più qualcosa del genere eh qualcosa del genere lo stile di nasus si non di nasus di sius caius sembronius però non gli facciamo pochi danni signori è un buon buon combattente questo è sicuro questo è sicuro non c'è tanta intenzione saperlo usare e ma ecco questo non ho altro da dire oddio che paura mamma mia imbufalita mamma che pavento che mi è venuto oddio magneta 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 ma adesso posso fare questo si posso poter zark il minion ma questo è bellissimo bene intanto vediamo che il master yee è finalmente andato giù bot questa partita si pronuncia bene anche perchè questa torretta è quasi morta ah si potremmo essere anche support qualcosina di support ce l'ha semplicemente solo questa skill però potrebbe essere utile per supportare un amico oddio oh tu rallenti mio amico io rallento te Dio santo mettiamoci i fuoco aha adesso dovrei fare dei attacchi basici quindi vedo se riesco a ok ok forse non è una buona idea mi am vedete abbiamo fatto la abilità gratis siamo riusciti ad ammazzare un wright pensavi che almeno fosse andato eh pensavi speravi che almeno fosse andato questa cosa delle cinque dei cinque attacchi e e la possibilità di mangiare i minion fanno di lui un fighter che può rimanere a lungo dentro la propria lane muro di minion ah 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 ecco lo nemico final 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 eeeh sono morto vabbè speriamo di vincere da questa partita offensive items questo sono tornata 5 intanto prendo questo che non mi sembra malaccio dovremmo aver distrutta la propria si non me lo ricordo anch'io tanto vediamo che il nostro amico è tipo 50 livelli sopra di noi no a livello 10 e che sta facendo un buon lavoro quindi abbiamo buona possibilità di vincere questa partita anzi io penso di che vi intrattererò in un'altra maniera con jungling prendiamo un po' di jungle mangieremo un po' di tizi infatti li sono sotto torre dobbiamo mangiare anche loro mamma mia i danni e questo non aiuta più di tanto ah buon jungler questo devo dirlo questo devo dirlo perchè guardate la velocità in cui elimina un nemico di basso livello è incredibile tanto abbiamo un nemico timo il timo nemico aria mi hanno visto no cosa buona una cosa buona una cosa buona una cosa buona niente di interessante finora questo è bene ability power ability power ability power non è che mi serve più di tanto mi serve questo bene andiamo a fire jungle che praticamente ci garantisce un è un buon modo per guadagnare soldi e ai 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 wow 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 donna dove sono io darkness ok lui è morto ora devi anche salvare la torretta ci potenziamo riammazziamo il rai e fungiamo patonna questo era giocare bene con uno ragazzi questa si chiama fortuna culo soprattutto e mio dio volendo quella skill potevo anche fermarla prima e l'avrei ucciso non mi è venuto in mente dai vai è morto e adesso nostra missione è ammazzare i minion e vincere questa lane cioè distruggere anche l'ultimo benedetta torretta abbiamo un esercito dalla nostra parte non abbiamo paura di usarlo mangiamoci lui pensiamoci e mi sa che muoviamo io mi sa che muoviamo ieppola che cavolo ho fatto ad ucciderlo o o meglio non saperlo i miei miei r r r r r stiamo andando bene ragazzi stiamo morendo ma questo è normale giocando bene, noi intanto andiamo ad ammazzare i lupettini, e un lupo andato, credo che il nostro amico lasio stia cercando di fare lo stesso giochetto di prima, ma è morto, e che questa è cosa buona e giusta, oddio non è morto, bravo, ok ragazzi devo giocare un po' meglio, questo, pensiamoci un po' questo, il problema appunto di Nunu è che non fa tutti quei danni, quindi, non è quel combattente assassino, che come tipo lui, poi è comunque buono, e abbiamo cominciato bene per il primo episodio di, intanto abbiamo... Shutdown, ammazzalo, eh, eh, ti aveva dato fuoco però eh, Power, I set fire, madonna, mu arriva Nasus, che prima era, prima era e per Power, adesso fa schifo ma tanto, ma tanto, lo stesso numero di kill e di morti e nessuna assista, ma anche, non è vero, ma anche, non è vero, ma anche, non è vero, eh, lo sapevo io, vai vai vai, questo è potenziato, questo è potenziato, questo è potenziato però amico mio, eh, questo è potenziato, eh sì, questo è potenziato, che vuolskiat. Ah, che bambini è potenziato, Ronale che sta a metterlo, non è vero, perché il in dvd tu non la destra e danno allettare almeno lui se qualcosa per la vita no per il danno no supertipoli che al fine è quello che ci serve che mano va bene stanzi speckle con lui vediamo che no oh mia l'ho portato oddio no quanto odio quel tizio che non riesco a fargli abbastanza danni per ucciderlo e lui ne fa troppi a me e adesso però signori siamo all'ho scoperto non c'è più la torretta qui quindi siamo messi un po' male help esclamativo perché ho bisogno di aiuto oddio santissimo tanto io vado a gianglare non fu mai male e certo che l'altro non è un paese il stand osan bold comatonna se sta avvicinando trepa bene io non posso ammazzare tutti e due sembra che non stia venendo qui no, non ti ho fatto niente c'è un portasfiga a registrare, oh? non ti ho fatto niente perchè Brank si nisconda essa porca miseria bravi, però adesso tornate indietro, cavolo nei confini stai io non esco dalla base neanche se vedo che c'è un timon con un fungo lì in mezzo non c'entra il fungo, non lo so state zitti e non fate domande mazza uccidi kill 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 su mente a questo movement speed attack speed 12 secondi non male not bad oddio signori qui finisce la prima parte non sono manco accorto il tempo che passava di questo episodio ci vediamo alla seconda ciao